Credo che possa essere anche lui protagonista indipendentemente dal Varese che è così lanciato. Voglio il giudizio di Mondonico su Sannino, su questi episodi, sul gran campionato che sta facendo il Varese. Mondo? Sai, Sannino ha creato un po' un ambiente a sua immagine e somiglianza. Sai, spesso e volentieri si dice che un allenatore, almeno personalmente, un allenatore si deve un po' adattare all'ambiente dove va a lavorare. Invece Sannino è uno di quegli allenatori che fanno il contrario. Sono gli altri che si devono adeguare a lui. È successo così al Pergocrema, è successo a Varese. Tu vedi proprio che tutto l'ambiente dipende da lui. È lui che detta le regole, che detta il modo di essere, il modo di fare, il fatto delle parolacce, tra virgolette, che sono uno stimolo invece che un'offesa. È diventato un po' una cosa comune. E perciò complimenti, complimenti perché non è facile gestire un gruppo di giocatori, ma soprattutto farli diventare quello come vuoi tu e non invece adattarti a loro. Vuol dire grande personalità, grande forza, incoscienza? Perché è chiaro che dopo magari capiteranno anche le annate dove le cose non andranno così bene e perciò questo modo di fare, questo modo di essere, ti si può rivoltare contro. Allora lì è chiaro che la bravura di un allenatore, secondo me, dopo tante esperienze, si valuta soprattutto quando le cose vanno male. Quando le cose vanno bene, va bene per tutti, tutto quello che fai va bene. È tutto bello, no? Sono quando le cose vanno male che è chiaro che l'allenatore si trova da solo e da solo deve trovare tante cose dentro per esternarle, per fare in modo che l'esterno recepisca. E perciò spesso e volentieri allenatori vincenti, quando non lo sono più stati, hanno un po' mostrato i loro limiti. Sannino è chiaro, è un allenatore di grande personalità, come Conte mi sembra un allenatore di grande personalità, anche perché lui le squadre le vuole impostate come vuole lui. Sai, anche lì... Cioè non è che si adatta, no? Non è che si adatti ai giocatori che gli mettono a disposizione, ma lui pretende, pretende, capisci? Pretende, giocando in quella maniera, di avere giocatori, infatti i problemi l'anno scorso a Bergamo di Conte erano dovuti al fatto che, così, che invece aveva una squadra con altre prerogative, con altre caratteristiche, infatti lui non si è adeguato e lì è stato un po', non dico un fallimento, però una stagione negativa. E perciò, diciamo, bisogna seguirli, bisogna seguirli con enorme interesse, questi due allenatori, perché è chiaro che stanno un po' stravolgendo, oppure stanno portando avanti un'idea nuova del calcio, cioè di ambienti che si devono adeguare a loro. E non è facile, perché giustamente si parla in questo momento di Sannino come un allenatore che è sul mercato, però è chiaro che se vai in una società importante, fare in modo che la società si adegui a te, può essere non sempre attuabile, cioè è una cosa attuabile. Finché si parla di società medio-piccole è un conto, finché si parla di società... No, 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 soprattutto società dove hai vinto tanto. Certo. E perciò è chiaro che quando vinci tante, tante cose passano in secondo ordine. E quando incominci a perdere qualcosa, che se ci sono delle remore dietro saltano fuori, è lì dove si pesa un po' tutto quanto. Alfredo, dove andrà Sannino la domanda da... Ma guarda, se glielo dovessi chiedere, veramente lui ti querelerebbe. Poi domani lo avrete anche domenica e quindi glielo chiederete e lui ve la incarterà, perché dirà che si deve salvare, non ti spiegherà mai cos'è la sua salvezza, perché è un'altra cosa rispetto alla salvezza normale. È chiaro che lui adesso è concentrato su questo obiettivo, che è un obiettivo importante. Io ho seguito con grande attenzione Emiliano. Analisi meravigliosa, posso Alfredo? Devo anche del resto, è la psicologia. Io la psicologia di Emiliano l'ho scoperta in cascina tanti anni fa e quindi adesso io ho il documento. È come se avessi un documento in tasca, quindi mi aspetto questi numeri da parte di Emiliano. Non sono sorpreso. Devo dire che sono sorpreso da altri numeri, perché in un calcio che brucia tutto e subito, non perdo una partita in casa dal 2008, per me questo è un episodio, è una cosa incredibile, perché le partite le perdi per un soffio di vento, per le partite in casa, fuori casa, ne puoi perdere 4-5 di file e non te ne accorgi. Quindi questo per me già è un evento incredibile. Da un famoso Varese Olbi a 0-1 del 2008 non hanno perso più in casa. E questa è una cosa che va sottolineata perché entra in un libro importante, dove va a delle richieste, chiacchierato nel senso positivo al Genoa, a Sponda Genoa, potrebbe essere una soluzione per Siena, dipende anche da dove andrà Perinetti, il direttore sportivo del Siena, se resterà a Siena o se andrà a Genova da preziosi, come è possibile. Ma magari alla fine in quel famoso ambiente che ha spiegato benissimo Emiliano, vai in A col Varese e resta Varese. Scusa, non è che a quel punto può anche continuare, ma sarà sicuramente un personaggio da seguire, come diceva Emiliano. A quel punto la storia continua, sarà un personaggio da seguire. Io, siamo in chiusura di questa parte, poi ci saranno i saluti finali nell'ultimo blocco, ma anche i consigli di Sisal Matchpoint, i consigli per le scommesse. Enrico Cerruti, mi spieghi cosa ha detto Trevisan per spiegare, scusate il gioco di parole, quella sua esultanza polemica con i tifosi del Padova? Sì, intanto volevo dirti che c'è stato anche il sorpasso di Cutolo in vetta al sondaggio del Gal più bello. Bravo! Di Serie B e stanno votando in tanti, Valentina, siamo già a più di 6.000. Perfetto. Quindi è molto importante. Trevisan... C'è il mondo, ragazzi! Altro che ho di Nesero, ma c'è il mondo! No, ci siete voi, guardate, che siete voi che dovete manare il fluido. I numeri sono numeri, anche nel sondaggio, Emiliano. Bravo, bravo Alfredo! Questa è carta canta, come una notizia di mercato. C'è il mondo, ci seguono tutti! Ragazzi, c'è il mondo, ci segue il mondo. Bella battuta, va! Fammi vedere Facebook, per favore, così vedo cosa c'è sulla mia pagina. Aspetta, in chiusura, una sorpresina in chiusura, mondo! Ah, è la sorpresa! Una surprise! Dai, vediamo prima Trevisan, Valentina. Trevisan, al volo, dai! Si è molto arrabbiato con i tifosi che hanno preso di mira, lui dice, qualche giocatore, ma anche lui stesso, quindi hai visto prima quel gesto che ha fatto dopo il gol, lui dice sono cretini, non sono tifosi, non si può prendere di mira un giocatore, certi cretini dovrebbero starsene a casa invece di venire a tifare Padova all'Euganeo. Quei tifosi hanno rimproverato a Trevisan, diciamo, le sue defaianze nel derby perso malamente contro il Cittadella. Vado un po' a memoria, ragazzi. Ecco perché il silenzio stampa ogni tanto è utile. Fa bene. Hai ragione, Emiliano, Cutolo ha sorpassato Pagano nel sondaggio. Abbiamo finito? No. No? No, devo dire una cosa poi su Cutolo. Sì, adesso al volo? No, 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 no. No, poi dopo, Alfredo, dopo diciamo una cosa su Cutolo e una cosa su Walter Alfredo Novellino, amico di Mondonico. Adesso però chiudiamo questa parte per poi entrare nel curvone finale, pausa e poi sarà di nuovo speciale Serie B. Vi aspettiamo. Credo che... Ultima parte dello speciale Serie B dedicato alla 35esima giornata della torneo cadetto, dobbiamo correre. Ho in scaletta due nomi, Walter Alfredo Novellino e Agnello Cutolo, che con la sua tripleta ha lanciato il crotone nella vittoria contro il Frosinone. Parto da Novellino, chiedo un parere al nostro grande ospite, Emiliano Mondonico. Mister, il tuo amico Walter Alfredo, fatica, eh? Pensavi fosse un po' più facile la sua avventura a Livorno? Anche dopo quella grande vittoria a Torino? Ecco, è stato lì, dopo la vittoria a Torino. Sai, questo è un mestiere dove quando parli la domenica dopo succede il patatracco. Perciò Walter si è lasciato andare perché giustamente si sentiva non considerato dopo tutto questo tempo passato senza trovare una panchina. e da lì sono incominciati i problemi. Livorno è una buona squadra, lui è un ottimo allenatore, però è la maledizione, è la maledizione che gira un po' su di noi, che come ci allarghiamo un attimo, come pensiamo di aver risolto i nostri problemi, ricominciano da capo. Infatti non ha più vinto, tre pareggi e una squadra. Perciò anche lui è uno molto esperto e chiaramente una persona carissima e gli auguro proprio di vincere due o tre partite di fila che lo riporterebbe a essere competitivo. Sì, ma non ti passava mai il pallone. No, non era vero, era io che magari mi dava fastidio uno che sembrava più bravo di me quando giocavamo insieme nella Cremonese. Lui sembrava più bravo di me, la cosa mi dava fastidio. Ti dava noia proprio. E io dovevo essere il più bravo. Certo, sempre. Alfredo Cutolo, il pallone lo passa. Credo che possa... ...è la partita più interessante, questo sì che è uno spunto interessante. Fiorentina-Milan, Sisal punta su un no gol della squadra di casa. Fiorentina che ha segnato poco nelle ultime giornate, non avrà... Cioè, a parte a Cesena, non avrà mutuo. Il Milan invece ha preso solo due gol nelle ultime cinque giornate. Quindi no gol della squadra di casa, due, anzi uno e 95. Non segna la Fiorentina! Dobbiamo dire che il Milan non avrà Nesta, come giusta... No, non è stato convocato, non è stato convocato. La faccia di Mondonico, vi prego. State attenti. State attenti. Adesso viene fuori il cuore viola. A cosa dobbiamo stare attenti? No, sai, la Fiorentina deve fare il risultato. Fiorentina deve fare il risultato perché è chiaro che dopo il pari di domenica sicuramente giocherà per vincere. Manca Mutu, però non dimentichiamoci che Girardino... Io, secondo me, Girardino fa gol. Quindi altro che no gol, gol del Gila pure. Ti ci dà pure il marcatore Mondonico, giusto? Infatti io per quello ho Nesta. Quindi vince la Fiorentina, secondo te? Prego. Vince la Fiorentina? Lì anche perché... Milan gioca con Pato e Ibra? Sì. Sì. Sembro allegri. Se voi ti do la formazione al conflitto. No, non so. Oggi, fino ad oggi ero interessato ad altri. No, no. Quando giocano Boateng, Pato e Ibra, rientra Ibra dopo la squalifica e quindi l'impostazione è quella. Ha provato Pato più prima punta durante la settimana con Ibraimovic che gli fa da scorta. Ragazzi, vi riporto all'ordine, ma dobbiamo parlare di Serie A tra poco. Ma stavo parlando di Fiorentina. Hai ragione, hai ragione. Non si transige sulla Fiorentina. Enrico! C'è la Multipla. Multipla? Oh, la Multipla. 10 euro, se ne vincono 471 se si punta sull'X primo tempo, 2 finale di Bologna-Napoli, sulla doppia chance X2 Lazio-Parma, su Under 2,5 di Bari-Catania, 1 di Juve-Genua e no gol della Fiorentina. Casa no, non si torna a casa lì. Comunque sono tanti, 471,95 euro. Andiamo a giocare, Mondo? No, io non ci ho capito anche poco. Ma non puoi giocare al mondo in tesserati. No, ma mai... Li metto io i soldi, Alfred. Li metterà Ballarini. Ma non è un problema di soldi. Io ho avuto la fortuna. Di Natale, che è nata ad abbracciare Montella, no? Che era il suo compagno di squadra. Adesso non mi chiedere troppo qui se ha abbracciato Montella o Genes. Ha segnato di Natale, Enrico? Sì, adesso rischiamo tutti qui, Alfredo. Qua si scherza, ma poi rischiamo grosso. Chiudiamola. Scusa, hai detto che io ho vinto al Supra e Nalotto. Quanto hai vinto? Perché non ho mai giocato. E perciò, non giocando mai... Si vince. È chiaro che dici io, metti che punto 50 euro ogni volta che c'è Supra e Nalotto. Immaginati da quanto tempo che c'è, io non ho mai giocato, sono tutti i soldi che ho vinto. Giustamente. Perfetto. Chiudiamo quest'angolo Sisa al match point. Io ci ho capito poco, però lo chiuderei con una... Anche perché non tutti puntano 50 euro. Cioè, voglio dire, la base è una base importante. Se faccio mille ne ho vinti ancora di più. Va bene, va bene. Chiudiamo Sisa al match point. Sigletta. Poi ripartiamo, eh? Sigletta. Chiudiamo.